Dopo l'affermazione ottenuta lo scorso anno, Salvatore Riolo si è aggiudicato la salita dei Monti Iblei, valida per il campionato siciliano velocità salita autostoriche. Sfruttando il potenziale della propria PRC A6 di quarto raggruppamento e i riscontri ottenuti nelle prove di ieri pomeriggio, il Cerdese è riuscito a salire sul gradino più alto del podio nella classifica generale delle Manche, staccando un crono di 5,44 e 31, poco meno di 23 secondi più veloce del marinese Ciro Barbaccia.